Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano, un video post partita. Che partita? Di che partita parliamo? Parliamo di Roma-Inter. Parliamo di Roma-Inter che l'Inter vince addirittura 4-2 dopo essere andata in vantaggio per 1-0, può essere recuperata 1-1, 2-1 per la Roma, poi secondo tempo i Nerazzurri trovano subito il gol con Turam del 2-2, poi un autogol della Roma 3-2, cioè 2-3 e poi il 2-4 finale con un gol di Alessandro Bastoni. Ma io non sono qui per commentarvi la partita o per fare un video bravo a Inter o per fare un video no, la Roma ha meritato di perdere. Voglio fare un video e prima di fare il video voglio che mi mettiate like, iscrivetevi al canale, condividete, attivate la campanella e commentate e ditemi cosa ne pensate. Questo video è fondamentalmente per spiegarvi una differenza, un po' di differenze. La differenza tra Inter-Juventus e Roma-Inter. Allora la Roma sappiamo benissimo ha perso, non ha un organico all'altezza dell'Inter, come non ce l'ha evidentemente la Juventus, che anche la Juventus ha perso con l'Inter. Ma andiamo ad analizzare determinati dati. Intanto sappiamo sempre che l'Inter parte avvantaggiata, perché per carità la Roma su 9 falli prende 2 cartellini gialli, l'Inter 14 falli, 0 cartellini gialli e continua avanti la sua media positiva, che non gli danno un cartellino manco a pregare. Ma le statistiche della squadra, 8 tiri della Roma totali contro 10 dell'Inter, di cui 3 in porta per la Roma e 6 in porta per l'Inter, portano ovviamente una partita a essere più o meno sul 4-2 o sul 3-1 o sul 3-2 o sull'1-2, no? A seconda, però la Roma oltre a fare diverse occasioni in porta, tra qualcuna anche molto periolosa, ha avuto una percentuale di passaggi di precisione dell'85% contro un 88% dell'Inter. Ma sono dati, sono dati. Allora, se non ci limitiamo ai dati, e già i dati confermano che la Roma ha fatto sicuramente più della Juventus, della partita Inter-Juventus, la Roma ha cambiato l'allenatore. È vero, mi direte, ha perso. Come ha perso la Juventus. Quindi il risultato è 0 punti. E io sono d'accordo, però, e non è che un discorso per dire preferite perdere 4-2, preferite perdere 1-0. Il discorso è preferite perdere provandoci o preferite perdere rimanendo a guardare. Queste sono state le differenze sostanziali delle due partite. La Roma ci ha provato fino alla fine. Si è sbilanciata troppo, ha preso l'imbarcata del 4-2. La Juventus non ci ha provato dal primo al 95esimo minuto. Ora, cosa fa in più un allenatore se ha una carenza tecnico-tattica sui giocatori? Ci mette la propria personalità, il proprio carattere. Cioè trasmette quello che è il suo atteggiamento alla squadra. Ovviamente De Rossi, possiamo dire che è un allenatore scarso, possiamo dirne di ogni, possiamo dire che ci sta antipatio, possiamo dire tutto quello che volete, ma non che non ha carattere. De Rossi rappresenta la Roma. Rappresenta Roma. Come l'ha rappresentata Totti. Ma forse De Rossi è a livello di atteggiamento ancora più di Totti. E io ve lo dico da esterno, vi do un parere imparziale, non da tifoso della Roma, perché sono tifoso della Juventus. Ecco, Allegri cosa trasmette alla Juventus? La sua personalità. Ovvero Ambizione, ma senza il rischio. Nelle comfort zone, l'ambizione. L'ambizione con la pappa scodellata. Ok? Fondamentalmente la Juventus ha intrapreso un percorso molto, molto diverso dagli anni precedenti, no? Come ho detto oggi nel video e come ha detto oggi Geda, nel video che abbiamo fatto del pomeriggio, la Juventus ha intrapreso un percorso verso una linea verde. Quindi la linea verde presuppone giovani, giovani che vogliono, ambiscono, scusate, ad avere un ruolo importante nella squadra e nella storia del calcio. E quindi vanno motivati al punto giusto per farli rendere al massimo. Ecco, uno che può fare un lavoro del genere, ragazzi, a Roma è De Rossi. E certo, a Torino De Rossi che ci dice? Non ti dà quella carica come quando giochi nella Roma, indossi la maglia della Roma, un De Rossi. E' la stessa carica che può dare a un giocatore che gioca nella Juventus, un Antonio Conte, no? Ma un Massimiliano Allegri, la differenza, se voi oggi non avete visto differenza tra la partita di Inter-Juventus, la partita di Roma-Inter, veramente, ragazzi, io con il cuore in mano, con il cuore in mano, vi dico, abbandonate il calcio. Ma non il calcio giocato, il calcio è anche parlato, discusso. Perché oggi c'è davveramente da dire, cavoli però, se si gioca in un determinato modo, anche senza avere i campioni, l'Inter almeno, o quantomeno, la può mettere in difficoltà. L'Inter non è mai stata messa in difficoltà per un solo minuto dei 95 giocati contro la Juventus. E invece oggi ha rischiato di perderla. Poi non l'ha persa, va bene, il risultato è il medesimo, sono zero punti. Ma almeno i tifosi della Roma potranno andare a casa, dallo stadio, dicendo, cavolo, la differenza in campo è netta tra i giocatori. Però, cavoli, siamo arrivati a tanto così di fare la storia della giornata di campionato attuale, ovviamente. O di fare la storia anche a livello di Serie A, perché un capo dell'Inter oggi, e putacaso una vittoria lunedì sera della Juventus contro l'Udinese, avrebbe riaperto magicamente i giochi, che ancora non sono chiusi, ma, già uno scoglio importante come la Roma, l'Inter se l'è pappato. E quindi la vedo sempre più difficile, perché ogni giornata che passa manca sempre meno punti al traguardo. Quindi, ovviamente, ma che imbarazzo abbiamo avuto noi contro l'Inter e che carattere ha avuto la Roma di stasera contro l'Inter? L'Inter era la stessa, fondamentalmente. L'Inter era una squadra che ha provato a vincerla in tutte le maniere e l'ha portata a casa, come ci ha provato contro la Juventus. Con la Juventus forse ha sbagliato e ha sprecato anche di più. Quindi, se avesse giocato forse la partita di stasera, la Juventus ne avrebbe fatti quattro, lo stesso. Ma ne avrebbe presi zero. O forse uno? Forse. Perché forse, sai, la Juventus avrebbe provato il tutto per tutto, ma non è la Juventus che decide, è Massimiliano Allegri che decide quando cambiare le carte in tavola, quando sostituire i giocatori, chi far partire dal primo minuto. Ecco, e voi mi direte, ma non abbiamo altri. Anche la Roma non ha altri. Però De Rossi, da De Rossi a Mourinho, ora, permettetemi, non ce n'è anche stato tanto tempo di allenarli i giocatori, ma da quando è arrivato De Rossi c'è stato un cambiamento a livello mentale importante. E la mentalità e la testa in queste situazioni è il 90%, perché il fisico dipende dalla testa, amici miei. E' inutile, e poi parliamo di calcio e continuo a ribadirvelo, e parlo con persone delle volte che il calcio non sanno neanche dov'è, ma dice a me piace il bianco e nero e quindi tifo la Juventus, o a me piace vincere più spesso degli altri e tifo la Juventus. No, non è questo tifare la Juventus, non è questo tifare una squadra. Tifare una squadra nel bene e nel male, appoggiarla sempre, ma dire dove si fa bene e dove si sbaglia. E vedere oggi una Roma in questo modo, vi dico la verità, non è che mi preoccupo per il posto Champions, non me ne frega niente, siamo talmente tanto avanti che solo un miracolo potrebbe far, un miracolo all'incontrario, farci andare fuori dalla Champions League, un miracolo per gli avversari. o una penalizzazione così, cascata a Campatenare come l'anno scorso, ma il problema è dove andiamo, dove vogliamo andare quando continuo a sentir dire ma Allegri ha fatto quello che doveva. Allegri sta facendo il massimo, sta facendo il massimo fino a che arrivavano i punti. e prendi le imbarcate, cominci a perdere punti per strada e ti vedi il campionato già da una parte e te da un'altra. La Champions League sì, presa, però senza ambire a null'altro se non una finale di Coppa Italia. Cioè noi dobbiamo star lì a guardare gli altri vincere, non è la mentalità juventina, mi dispiace. E quindi sono contrariato a tanti di voi che continuano a dire la Juventus quest'anno, Allegri quest'anno, perché ormai non parlate di Juventus, parlate di Allegri. Allegri quest'anno ha fatto il massimo, quando arrivano i punti, ripeto. Ma se i punti non arrivano, come sono arrivati nel girone di andata? Cosa ha fatto Allegri? Ah, conquistato la quarta piazza, è arrivato terzo, secondo. Il risultato minimo dichiarato era il quarto posto. Ecco, il minimo non va di pari passo con l'ambizione di uno juventino, permettetemi. E se qui non siete d'accordo, io vi do il tempo, il modo di potervi esprimere. Scrivete qui sotto, scrivete nei commenti cosa pensate. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, altrimenti lasciate niente o lasciate un dislike. Commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e condividete, ripeto, se il video vi è piaciuto e volete continuare a sostenerci. Fino alla fine Forza Juve, questo non è un video contro la Juventus. Guardate bene, perché tanti ora manipoleranno il video dicendo ha fatto un video contro la Juventus, invece no, è proprio il contrario. Vediamo di svegliarci, fino alla fine.